Ragazzi siamo ufficialmente partiti Per la vacanza A ROTI! Uuuuh baby Appena entrati, appena giunti A ROTI, appena giunti in hotel Alinati ragazzi! Andiamo subito in terrazzo E vedere com'è questa camera Fratelli, già sta bene troppo Primo spritz Qualunque cosa fosse andato Bruciato Next! Amici, mattina del secondo giorno Stiamo ripocillando dopo una notte intensa Questo è lo yogurt greco Bisognerà mangiarlo in Grecia Io so solo una cosa Che il culo per il parcheggio Ce l'abbiamo sempre MEDE Allora adesso vi facciamo vedere un nuovo brevetto stendino proprietà copyright di Elia Sostanzialmente veniva in poco forza Inizialmente era una serie Bisogna di stendere i panni ma non c'era attrezzatura E c'erano queste interessantissime sedie Philip Stark Che però erano sostanzialmente inutilizzate Ci mettiamo un calzino per testa Perfettamente uno stendino E se ci pensate è un pratico stendino Che può essere usato anche come sedia Yeah La valle delle farfalle di Rodi Ooooooooh Altro giro, altra corsa ragazzi, dove stiamo andando lì? Ci siamo andando? Eh, il fatto è che non mi ricordo manco io, vabbè Stiamo andando? Stiamo andando, ecco sì, ecco sì, alla spiaggia ma chissà dove, vabbè adesso lo scopriamo Eccoci giunti in spiaggia, e lì, che sembra, che è, che è, com'è che sembra il paesaggio qui della Grecia, il spiaggia di Rodi, da Rodi come mappa, sembra la mappa di GT a Sant'Andrea Cioè, c'è tutto mare, montagne, colline, però è tutto compresso Il provino Deveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve Grazie a tutti. Ragazzi questa mattina andiamo a fare un giro in barca a vedere Big Prua, le più belle spiagge di Rodi, quindi faremo tappa su più isolette e logicamente documenteremo tutto, batteria permettendo. Musica 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 Adesso dove andiamo a farla del lente? Rodi antica, demoliti, distrutti, ma non si molla e stasera a Tortellini. Musica Musica Macchina riconsegnata ragazzi, oggi è l'ultimo giorno, madonna è qui a me schiaccia i piedi. Musica Ciao ragazzi, la vacanza si sta concludendo, siamo qui con queste meravigliose, adesso faremo un saluto speciale in greco e in italiano, ok? Per festeggiare un abbraccio, le nuove amicizie. Musica Il 3, un地方 Musica Uno, due, tre Sing No, no, no Ok 3 , ok il 3, 1, 2, 3 Little Don Tatastin Soldata Also, the Greek girls in italia Told crabs Ciao ragazzi, venite ai Rodi Great Amazing . N avengo Ragazzi siamo appena tornati a Roma tutti acciaccati, adesso un'ultima perla, allora ragazzi descrivi con una parola la tua vacanza a Rodi, troia, domenico, stupendo, fratellino, nuove amiche di penna, una parola però eh, no tre, a parato, a guerra di troia, a parato, va bene raga ci vediamo a questo punto nel prossimo vlog, ciao!